Ciao a tutti, ci risiamo, dopo quasi tre anni torno nel capannone abbandonato famoso a prendere la mia secondogenita, Kiwi, dicono che i secondigeniti di solito sono più belli dei primi, sarà una bella guerra, però sono contento della scelta fatta. Niente, volevo dire una cosa che sicuramente per prendere un cane ci vuole tanto amore, tanto amore, quindi al di là della razza, del colore, del modello, l'importante è che ci sia amore. Poi i cuccioli di Carlotta sono i miei preferiti, quindi li sceglierò sempre. Poi come dice Paolo spesso, posso usare le tue frasi, se uno vuole una cosa che costa devi spendergli i soldi, se no non li spendere e prendi qualcos'altro. Io ho scelto loro e sono sempre felice di aver fatto questa scelta. E ritroviamo Lillo cresciuto in perfetta forma, bellissimo, sembra una statua. Bellissimo, poi dicono che questi colori ammalano, morono. Quanti anni hai? Tre, dicoci ho tre anni e sono bellissimo e sono in forma, a parte il brufolo, però sto benissimo. Vero? Ok, grazie mille. Grazie, è un piacere sempre. Ciao, fuori in Italia. Ciao, ciao. Grazie a tutti.